Gubbio, piazza grande, 18 agosto a partire dalle ore 20 e 30. Il Rotary Club scende in piazza con una nuova iniziativa. Una iniziativa giochiamo in piazza. Siamo partiti sempre dall'idea, diciamo dalle linee progettuali del Rotary di questo anno che sono rivolte alla sensibilizzazione delle nuove generazioni e della cittadinanza, ai valori sempre del senso civico e della Gubbio Pulita. Allora abbiamo pensato perché non organizziamo a piazza grande una serata con dei giochi alla riscoperta di giochi semplici, intelligenti, puliti, che si rifanno a quella che è l'esperienza ludica italiana del gioco in legno, semplice ma pulito. E quindi abbiamo iniziato a contattare delle ditte che portassero questi giochi. Abbiamo contattato la Ludobus Legno Giocando. 40 giochi in legno che possono coinvolgere i bambini, famiglie, nonni, genitori che giocano insieme. Più con la collaborazione della ludoteca che quindi porterà quelle che saranno i loro giochi in sostanza. Ma non solo questo perché poi la vostra attenzione in questo periodo è stata anche rivolta ai giovani, diciamo non solo i bambini ma anche i giovani quelli in età adolescenziale o poco più. E allora a questa serata arrivano anche i club. Di che cosa parliamo? Nella fase di colloquio motivazionale con i ragazzi che hanno partecipato al progetto dei City Angels abbiamo conosciuto tanti ragazzi che fanno parte dei club. E parlando con loro è venuto fuori proprio questo loro desiderio e la necessità insomma di organizzare una serata anche per loro in piazza. Magari mettendoli l'uno contro l'altro ma in modo positivo e quindi abbiamo detto perché non in questa occasione. E' un torneo dei club e si sfideranno ai giochi, ebbene sì, semplici, quelli del bigliardino, della briscola e anche della Playstation perché poi comunque sono i giochi attuali che quindi coinvolgono principalmente loro in questa fascia di età. E c'è anche un premio vero per chi vince? Assolutamente sì, quindi i primi tre classificati vinceranno una cena, una pizza per 12 e più birra, gentilmente offerti che quindi ringraziamo per la loro collaborazione, Gubbio Facentro, Maggio Gubbino e i Lions Club. Ecco, questa finalità di coinvolgere i club, portarli dal club in piazza, perché? Se ci si rispetta reciprocamente, si riesce a convivere insieme, anche in una piazza, è il segno tipico, insieme. Cioè, questo è anche il messaggio che vogliamo trasmettere, nel rispetto comune si riesce a giocare insieme. Il Rotary è stato molto attivo in questo periodo, proprio nella volontà di costruire o quantomeno aiutare un senso civico, magari dormiente, a volte assente, a volte presente, ma insomma timido. Ci sono stati progetti importanti che proseguono. Uno è quello dei Ciceroni, l'altro quello degli Angels City o City Angels. A che punto siamo? I giovani Ciceroni ancora è in fase, perché comunque ci sono dei giovani che stanno contribuendo a tenere aperti questi luoghi che occasionalmente vengono aperti durante il periodo estivo, chiaramente con le forze che sono a disposizione, fino alla fine di agosto. Siamo contenti di riconfermare anche la seconda fase del progetto dei City Angels. A partire da lunedì 22, sei o sette ragazzi che non sono risultati assegnatari nella prima fase, ma che loro stessi hanno chiesto di poter contribuire lo stesso in questo progetto, proprio perché era piaciuto loro. Quindi verranno ricoinvolti e ripartirà da lunedì per una settimana, quattro ore al giorno questa volta lavoreranno. Siamo sempre in collaborazione con l'amministrazione comunale, con il partenariato dei quattro quartieri, Gubbio fa centro, Maggio Gubbino. La squadra è sempre la stessa. Adesso l'amministrazione individueremo in questi ultimi giorni i luoghi dove intervenire. Forza al giovane! Grazie a tutti!